Ciao, oggi parliamo di zona comfort e di domande utili per capire se è necessario uscire fuori dalla zona comfort. Mi scrive un amico dicendomi che ha deciso di non frequentare un corso che poteva essergli utile per il lavoro in quanto capisce che non è abbastanza utile per lui, che in questo momento non gli serve. La sua domanda però è voglio stare nella mia zona comfort o veramente questo corso non mi è utile? Io direi che ci sono delle domande che possono aiutarci veramente a fare delle scelte importanti e sane per noi stessi. Quindi il consiglio che voglio darti oggi per toglierti ogni dubbio quando non sai bene cosa fare è questo. Dovrai domandarti cosa ho bisogno veramente di fare di nuovo, di diverso per arrivare ai miei nuovi risultati, a ciò che veramente desidero. Subito dopo chiediti cosa sono disposto a sacrificare per arrivare a raggiungere il mio risultato. Quando ti sarai risposto a queste domande e avrai trovato una risposta, una soluzione, chiediti questa soluzione, questa cosa da fare, da comprare. Mi serve o non mi serve? È veramente utile per me o non lo è? Nel momento in cui ti chiederai mi serve o non mi serve, avrai la risposta a quella definitiva e a quel punto non dovrai più preoccuparti di essere in zona comfort o meno, perché ti sarai già posto una serie di domande, ti sarai messo in discussione e avrai trovato veramente la risposta più giusta per te. Con questo appunto voglio salutarti e dirti quindi di non farti troppe pippe mentali, ma poche domande semplici e poi via con la scelta. Ciao, a presto!